Non ci saranno più le mezze stagioni 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 sono due tipi che vengono pianto anche adesso 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 non sono lontano durante questo trastorno e di farci un'idea unico nel vento fa che ti esci via la propria carezza i fini del mar come un pianeta e di farci non toccata le piante il mare se non vado provincia tua dimenticati c'è chi attraversa la vita come un pianeta come un pianeta che mi prendessi che mi prendessi per il tuo amore dai 15 a 5 sono due tipi che vengono pianto anche adesso 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 che sono lontano che mi prendessi per il tuo amore che mi prendessi per il tuo amore come un pianeta che mi prendessi per il tuo amore 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 Grazie a tutti.